Che qualsiasi partito vinca le prossime elezioni, a prescindere dalla mia preferenza, si interessino del quartiere, con leggi nazionali che risolvono finalmente i problemi ataviciti al nostro quartiere. Io penso che proprio questa campagna elettorale sia proprio la campagna elettorale dove si esprime proprio il senso del voto, cioè la gente è convinta per chi votare. Ed è la prima volta che capita qua a Scampia, prima c'era un'affluenza, c'era più polizia, più carabinieri, più cose, perché prima di farlo già si sapeva tutto. Bene, ero deciso quando sono entrato nel seggio, perché questo è un momento molto delicato per questo paese, allora è meglio assumersi la propria responsabilità senza farsi influenzare fuori dai seggi. È stata abbastanza tribolata, però adesso l'ho presa e quindi vado avanti, soprattutto per Scampia, ma per tutte le periferie d'Italia, perché Scampia è conosciuta e sappiamo bene che è molto conosciuta anche all'estero, ci sono tante periferie in tante altre città.